Il video in cui ho spiegato come fa NordVPN a sponsorizzare così tanti youtuber e alcuni aspetti un po' controversi del modo in cui viene pubblicizzato ha raccolto più di 100.000 visualizzazioni, una sorpresa per il mio canale. Questo è un video chiarimento. Non perché ritengo che ciò che hai detto nel video sia scorretto o poco accurato, ancora ritengo quel video utile nel suo scopo e corretto nel modo in cui ho affrontato i problemi, ma perché nei commenti a quel video ho notato un'estrema negatività nei confronti delle VPN in generale e di Nord chiaramente più in particolare, con persone che le bollavano come uno strumento completamente inutile quando questo in realtà non è corretto. Ho parlato con esperti di sicurezza e ho parlato anche con membri di Nord stessa, ma vi assicuro che questo video non è in alcun modo sponsorizzato, né tantomeno ho preso da loro la lista delle cose da dire, mi sono confrontato su quello che avrei voluto dire in questo video per spiegarvi i dettagli e ho ascoltato il loro feedback sul video originale, ma ripeto rimango della mia posizione sul fatto che, quanto detto nel video originale, sia assolutamente sensato e giustificato da parte di un utente come me che cerca di farsi domande e investigare sui servizi che compra. Andiamo quindi a vedere quali sono effettivamente gli utilizzi legittimi delle VPN. Quando è che una VPN può essere utile per la vostra navigazione? Questi sono commenti che valgono per qualsiasi tipo di VPN. Fate le vostre ricerche, ci chiedete la VPN che vi aggrada di più, però tendenzialmente la maggior parte delle cose che sentirete in questo video qualsiasi buona VPN dovrebbe essere in grado di proteggervi. Uno dei punti cardine del video, almeno nei commenti, è stato legato all'HTTPS e le VPN come lavorano insieme. Chiaramente sono consapevole che questi non sono competitor, come qualcun altro nei commenti anche ha specificato, ma possono lavorare insieme. Ritengo che a volte, nel modo in cui i VPN sono state pubblicizzate da alcuni creator, ci sia stato un cambio di responsabilità, ma alcune cose a livello di protezione che avvengono grazie a HTTPS vengono attribuite alle VPN, ma assolutamente ci sono dei casi in cui questi due servizi vanno benissimo insieme. Una cosa che mi è stata fatta notare dal team di Nord è per esempio che non tutti i siti HTTPS si caricano già originariamente con questa forma di criptaggio, chiamiamola così per semplificare, e loro dicono che l'11% dei siti, solo l'11, utilizza il protocollo HSTS che serve a ovviare a questo problema. Facendo le mie ricerche ho trovato che in realtà questa percentuale è probabilmente superiore, intorno al 24-25%. Chiaramente il numero di siti non protetti da questa eventualità rimane comunque alto e questo apre importanti vulnerabilità prima che il sito si carichi completamente in caso di deep bucket inspection. Inoltre alcuni siti che utilizzano HTTPS potrebbero stare utilizzando dei servizi terzi come CDN per esempio, che effettivamente non usano il protocollo HTTPS e questo può creare dei problemi, può rendere, come dire, sniffabili in chiaro alcuni file per esempio che vengono scambiati con i server con cui vi state interfacciando. Un'altra eventualità da cui vi possono proteggere le VPN è quella dei DNS avvelenati. Quando infatti voi scrivete un dominio all'interno della vostra barra di ricerca, quel dominio viene poi convertito in una stringa di numeri nell'IP del sito che state visitando e a volte degli agenti malevoli possono prendere un controllo parziale del sistema utilizzato in questi scambi e avvelenare appunto i DNS, creare un clone del sito che state visitando con tanto di certificato HTTPS che sarebbe un certificato diverso, però difficilmente riconoscibile da un utente normale e utilizzare quel sito per catturare delle informazioni che voi appunto utilizzate interfacciandovi sul sito pensando che sia il sito originale. Quindi se il servizio di VPN che scegliete, che andrete a utilizzare, utilizza infatti dei DNS maggiormente protetti, come dire, più controllati, questo può ridurre l'eventualità che ci siano problemi di questo tipo con siti clonati utilizzati per phishing fondamentalmente. Un altro tema sicuramente ricorrente quando si parla di VPN è quello relativo al vostro IP. Come già accennato nel video originale, le VPN vi aiutano a nascondere il vostro IP, questo può essere utile perché lo nascondono dal vostro ISP, dal vostro provider, per esempio o team, e di conseguenza può essere anche un modo per nascondere il vostro IP a un governo che cerca di limitarvi nella navigazione dei siti internet. Questo in particolare è nobile dal nostro punto di vista quando si va in paesi come per esempio la Cina, che sono paesi con una forte censura su siti che invece noi visitiamo giornalmente, di cui abbiamo bisogno anche quando siamo lì in vacanza o per lavoro. E in questi casi quello che vi consiglio è di fare una ricerca specifica su quale VPN sono consigliate nel paese in cui vi state dirigendo. I governi cercano di agire rapidamente nel bloccare le VPN da poter aggirare queste limitazioni e credo che ci sia una differenza a livello geografico anche tra le VPN più consigliate da una parte o dall'altra. Se vi può interessare nei commenti del video ci sono varie persone che si scambiano anche consigli su quale VPN è più consigliabile, in particolare in Cina. C'erano tante persone nel video che hanno commentato appunto dalla Cina con l'utilizzo di VPN perché YouTube non sarebbe stato disponibile altrimenti. Ma nascondere il proprio IP ha anche altri vantaggi. Come ben saprete la maggior parte delle sponsorizzazioni delle VPN si rivolgono a uno scenario in cui noi siamo seduti in un co-working, in un bar, in un ristorante che ha un wifi pubblico e ci connettiamo. Sicuramente questo ha senso perché su un wifi pubblico siamo sicuramente più vulnerabili che nella nostra rete privata di casa ma se ripeto da una parte non sarà la VPN a far sì che un hacker non sia in grado di intercettare e decifrare il pacchetto che ci scambiamo con il sito della banca e quindi rubarci la password, questo lavoro è principalmente svolto da HTTPS, quello che può succedere è avere attacchi man in the middle in cui per esempio viene rilevato il nostro IP, quindi forme di IP sniffing e questa informazione può poi essere usata contro di noi. Quindi l'utilizzo delle VPN in wifi pubblici è principalmente consigliato per questi tipi di motivi. Ci sono vari tipi di attacchi che possono essere fatti grazie all'intercettazione del nostro IP. Ci sono tantissime informazioni online, io non sono un esperto, non sono qui per approfondire, però magari vi lascio qualche link in descrizione. Avrete sentito parlare per esempio di attacchi DDoS o DDoS, questi fanno parte di questa categoria per esempio. Un altro aspetto non direttamente legato alle VPN ma legato alle aziende che creano queste VPN sono i vari servizi aggiuntivi di sicurezza. Per esempio io sono un grande fan dei software di password management come OnePassword e Dashlane che sono quelli che ho utilizzato personalmente dopo averne provato in paio. Bene, le VPN stanno aggiungendo servizi di questo tipo e per molte persone lo step più importante e più facile per cominciare a proteggersi online è quello di cominciare a utilizzare password diverse, password complicate e gestirle in maniera semplice, efficace. Credo che i password manager siano un ottimo metodo per farlo e tante VPN stanno incorporando queste soluzioni all'interno dei propri pacchetti. Volendo andare anche un po' più in profondità sicuramente ci sono tante VPN che stanno sviluppando dei software anche per aiutarvi a ridurre per esempio i pop-up che hanno scopo di introdurre malware all'interno dei vostri dispositivi, all'interno della vostra navigazione web e assolutamente questi sono opzioni alternative e funzionalità valide per chiunque voglia essere più protetto navigando online. Un altro punto che è stato portato avanti in realtà da Nord ma che mi sento di accogliere visto che mi ha trovato abbastanza d'accordo è quello della navigazione in sicurezza per tutti, facile. Effettivamente non credo che sia qualcosa che riguarda le persone che stanno guardando questo video ma ci sono tantissime persone che ogni giorno navigano online ma che sono esposte a tantissimi pericoli in quanto inconsapevoli, quindi persone che non hanno neanche idea di cosa sia HTTPS, che non sanno come riconoscere un sito potenzialmente pericoloso, sicuramente una VPN può essere un aggiunto interessante al loro stack di tecnologia per ridurre quelli che sono i pensieri riguardanti i potenziali problemi, attacchi informatici, in particolare al giorno d'oggi in cui tendenzialmente la velocità delle VPN è minore rispetto a quella delle nostre connessioni online o anche connessioni pubbliche, però raggiunge dei livelli accettabili anche perché in generale le nostre connessioni sono diventate più rapide. Quindi questo ho pensato fosse un punto valido da introdurre nella lista. Prima di passare alla sezione dedicata al tracciamento dei vostri dati ci tengo a fare un ringraziamento in particolare alla persona che mi ha aiutato di più forse nella stesura di questo video, di quali punti parlare e anche nella revisione, che forse non vuole essere nominata però scrive in un blog chiamato Different Glasses. Different Glasses è un blog che vi consiglio di leggere soprattutto se siete interessati allo sviluppo professionale, ci sono tanti spunti interessanti e anche tante recensioni di libri carini e tra l'altro seconda parte della marchetta mi ha ispirato anche per dare nuova vita a un mio sito personale, quindi dovrebbe essere online adesso se andate su dist.io o io se preferite la dicitura inglese. Ci sono vari strumenti che potete usare se siete impiegati o founder di una startup per calcolare quanto valgono le vostre azioni, la vostra equity, se volete una raccomandazione sul vostro costo di acquisizione rispetto ai pagamenti del vostro servizio, sia si payback time per chi capisce di cosa parlo e appunto è ancora in versione beta, quindi dopo che avete finito di leggere differentglasses.com potete andare su dist.io, farmi sapere quali sono i vostri feedback, ci sono anche articoli che approfondiscono un po' le tematiche che tratto sul canale. Voglio fare una postilla per quanto riguarda il discorso sulla privacy. Nel video ho detto che nonostante io abbia speso diverso tempo facendo ricerche per capire se esistesse l'eventualità che Nord venda i nostri dati, conserva i nostri dati e insomma li utilizzi in qualche modo per monetizzare, non ho trovato nulla, ma che comunque non avevo una fiducia al 100% verso il servizio. Intanto c'è da puntualizzare quello che è successo nel 2017 con il server bugato e la comunicazione poco chiara, però non voglio utilizzare una storia di 5 anni fa per l'argomentazione di oggi. Ci tengo a dire che secondo me è importante e legittimo continuare a dubitare dei servizi che utilizziamo quando si tratta di servizi così importanti proprio per la nostra privacy. Pensando a tutto il tempo che noi utilizziamo oggi per navigare online, sicuramente non tutti, ma molti di noi possono avere delle informazioni sensibili, come dire, catturabili da servizi di questo tipo, assolutamente fate le vostre ricerche, se non trovate nulla di sospetto, nulla di malevolo, come è successo per me, potete comprare il servizio o il servizio che vi pare, ma secondo me è importante comunque mantenere un dubbio razionale, un dubbio critico, mettiamola così, e continuare a informarsi, continuare a chiedere più trasparenza verso i servizi che utilizziamo e assolutamente non accontentatevi di una ricerca una volta, perché poi queste cose possono anche cambiare, mutare, evolversi, nuove informazioni possono venire alla luce, e ci teniamo a fare questo commento perché è un tema che è anche uscito con i rappresentanti di Nord. Penso che nonostante sicuramente abbiano dimostrato di essere attenti alla sicurezza, questo non giustifica il mio togliere qualsiasi tipo di dubbio o remora verso servizi come questo. Si tratta principalmente, faccio questo ragionamento principalmente per servizi che hanno molte informazioni di me, sul modo in cui navigo, informazioni, ripeto, potenzialmente sensibili. Parliamo ora delle VPN gratuite, un tema molto dibattuto sotto al video, molte persone hanno chiesto informazioni, e ci tengo a specificare una cosa, non è scritto nella pietra che una VPN gratuita sia una truffa che vende vostri dati, non c'è certezza di questo, ci possono essere sicuramente VPN gratuite che, insomma, vi trattano bene e non abusano delle informazioni relative a voi. Ma empiricamente vi posso dire che ci sono state varie notizie che ho cercato online di VPN che hanno venduto dati, VPN che sono state trovate a non rispettare la privacy dei propri utenti, come invece dicevano di fare, o magari semplicemente non dicevano, ma utilizzavano in maniera impropria, immorale i dati dei propri utenti, la maggior parte delle volte queste erano VPN gratuite. Questo non vuol dire che una VPN a pagamento non possa fare la stessa cosa, semplicemente per guadagnare di più, però è naturale che questo modello di business sia più presente nelle VPN gratuite, perché appunto hanno bisogno in qualche modo di monetizzare, se non monetizzano da voi, monetizzeranno dai vostri dati, tendenzialmente. Ci sono comunque delle VPN da nominare, delle alternative da nominare, per esempio ci sono delle VPN fai da te, che potete crearvi voi, ci sono VPN open source, c'è per esempio il progetto Strasen Effect, che potete scaricare, c'è anche Tor, che fa parte di una famiglia differente, però ho visto che è stata anche questa menzionata spesso nei commenti e che può essere utilizzata per scopi simili o paralleli a quelli delle VPN, ma chiaramente queste sono anche soluzioni, non alla portata di tutti, utili per utenti che hanno più dimestichezza con l'informatica in generale, ecco, mettiamola così. Questo è un tema anche particolarmente difficile da approfondire online, devo dire, leggendo anche risorse, mi sono dovuto rivolgere a degli individui che conoscevo, che hanno esperienza nel settore, proprio perché in realtà mi è sembrato complicato trovare opinioni normali, opinioni non biased, cercando appunto su Google e su altri motori di ricerca, perché moltissimi degli articoli che troviamo hanno un chiaro conflitto di interessi, la maggior parte ha link di affiliazione con le VPN e per l'esperienza personale, vi posso dire che sicuramente in altre categorie, in altri tipi di business, ma penso che questo si traduca molto bene anche sul discorso VPN, la maggior parte dei link all'interno di quegli articoli sono comprati, l'ordine di quegli articoli viene stabilito da chi lo scrive in base a quale link gli dà più soldi, gli dà una percentuale più alta, insomma, è un tipo di business, è un tipo di articolo di cui non ci si può affidare, secondo me, la maggior parte delle volte. Ci sono quelli sicuramente affidabili, ma se non si conosce già il sito è difficile stabilire quale e dove andare a guardare e quindi è un peccato che in realtà sia difficile trovare informazioni dettagliate su come le VPN ci possono proteggere quando navighiamo online, perché appunto effettivamente si trovano o informazioni poco chiare o utilizzi discutibili, di cui vi parleremo anche tra poco, o appunto diciamo frasi messe in maniera fuorviante. Parlando di utilizzi discutibili delle VPN voglio fare un ulteriore commento su perché trovo ridicolo che i youtuber sponsorizzino le VPN come modo di aggirare i blocchi delle piattaforme di contenuti di streaming. Nei commenti molti hanno scritto, ah ma se io pago per Netflix perché non posso vedere i contenuti di Netflix America? Se io pago per Dazon perché non posso vedere Dazon all'estero, Sky all'estero? Se io pago il canone perché non posso vedere Replay? Sono tre casi diversi, Netflix, Sky e Replay. Però diciamo che c'è un filo comune, no? Netflix se sei in un altro paese anche con il tuo abbonamento italiano lo puoi vedere, Sky se sei in un altro paese con un abbonamento italiano non lo puoi vedere, Replay se sei italiano in un altro paese dovresti essere in grado di vederlo ma ci sono delle complicazioni. Però tutte e tre queste limitazioni girano intorno al discorso dei diritti d'autore, del copyright, dei diritti di trasmissione e trovo ridicolo che siano gli influencer a sponsorizzare questo tipo di utilizzo perché il loro lavoro in un certo senso gira attorno allo stesso concetto, intorno al concetto di diritto d'autore, il diritto del creatore di un'opera se vogliamo di poterla monetizzare. Così come sarebbe immorale, sarebbe sbagliato se vogliamo guardare il video di uno youtuber caricato uguale e paro da un altro youtuber su un altro canale youtube monetizzato, ok questo è un caso chiaramente che comporta il ban di quel video sul canale youtube dell'autore non originario, beh andarsi a vedere una serie che è disponibile solo su Netflix americano dall'Italia è un sistema equivalente, capisco la frustrazione di chi paga per il servizio e non ha accesso a tutto quello che quel servizio tra virgolette ha a disposizione, anche io come utente vedo questa come una limitazione frustrante e per carità mi piacerebbe un mondo in cui tutto questo fosse possibile e ripeto non voglio fare la morale agli utenti di per sé anche perché io stesso ho fatto uso di pirateria in passato come dicevo nell'altro video quindi io per esempio voglio vedere le partite della Roma e vivo all'estero è estremamente complicato poterlo fare perché per esempio non posso comprare da zone e questo è estremamente frustrante ma perché invece me la prendo con i creator piuttosto che con gli utenti? Perché loro dovrebbero più di tutti conoscere i problemi di sponsorizzare questo tipo di utilizzi quando noi andiamo a vedere una serie su Netflix americano dal suolo italiano oppure ancora peggio andiamo a vedere per esempio la formula 1 sulla televisione svizzera mettendo la VPN in svizzera quando siamo in Italia che cosa succede? Stiamo togliendo clienti potenziali a Sky che invece ha acquistato i diritti per trasmettere la formula 1 in Italia diritti esclusivi solo loro possono trasmettere la formula 1 in Italia quindi estremizziamo facciamo finta che tutti comincino a usare le VPN per vedere la formula 1 gratis beh a quel punto Sky i diritti della formula 1 non li compra più e la formula 1 perde 50 milioni di euro all'anno facciamo finta che poi questa cosa esca dai confini italiani e tutti quanti scoprono questo fatto che puoi vederti la formula 1 gratis dalla televisione svizzera da RSI la televisione svizzera italiana magari tutti quanti si imparano l'italiano oppure dicono ok non mi importa avere il commento in lingua originale la formula 1 perde tutti i diritti televisivi a cui ha diritto chiaramente questo è un esempio estremo non succederà mai però quando noi giudichiamo la moralità se vogliamo quando noi giudichiamo un'azione di questo tipo dobbiamo chiederci sicuramente ok quale può essere il nostro impatto come individuo ma siccome il nostro impatto come individuo è sempre basso chiediamoci anche se tutti quanti dovessero fare come me quale sarebbe l'impatto no è come dire ah evado le tasse ok sicuramente la mancanza del mio gettito fiscale allo Stato sarà quasi intellegibile però se tutti lo facessero ci tengo a fare questo commento di nuovo non perché sono il giustiziere del web non me ne frega niente sinceramente però è importante riflettere su quelle che possono essere gli effetti di queste abitudini specie se sei un creator e stai pubblicizzando questo utilizzo a 10 100 un milione di persone 10.000 100.000 milioni in ogni caso il rappresentante di nord mi ha fatto sapere che comunque loro ci tengono a parlare dell'utilizzo corretto delle vpn la navigazione sicura su web e che questo processo ed educazione coinvolgerà anche creator io continuo a vedere nonostante questo sia stato smentito però continuo a vedere per esempio tanti creatori di contenuti sulla formula 1 che pubblicizzano questo utilizzo delle vpn per vedere la formula 1 in svizzera mi piacerebbe che smettessero però ecco ormai è di dominio pubblico il danno è fatto penso che prima o poi si cercherà una soluzione a questo problema magari la rsi smetterà di trasmettere in chiaro queste queste trasmissioni chi lo sa il prossimo anno probabilmente si vedrà cosa cosa cambierà però ecco vediamo sono curioso di vedere se effettivamente rispetteranno quello che mi è stato comunicato continuerò a tenere un occhio aperto non penso che ci saranno altri video sulle vpn almeno per un po però invito anche voi a tenere un po gli occhi aperti e monitorare la situazione sono sono curioso in ogni caso io spero che questo video vi sia stato utile spero che abbia offerto dei chiarimenti per quanto riguarda quello che è stato detto nel primo video ripeto l'ho fatto perché mi sono reso conto che in quel video sono arrivati tanti commenti negativi verso i servizi dei vpn in generale e di nuovo nord in particolare secondo me anche un po' immeritati il mio scopo in quel video era capire come facessero effettivamente a sponsorizzare così tanti youtuber e un utilizzo una sponsorizzazione se vogliamo in certi casi confusionaria delle potenzialità del servizio era parte dei modi in cui il tasso di conversione per questo servizio il mercato per questo servizio è stato ampliato e quindi è rilevante lato business però questo non vuol dire che le vpn in generale siano un servizio inutile ripeto che non c'è stato alcun tipo di sponsorizzazione collaborazione né ho discusso di un'eventualità tale futura con nord vpn non penso che saranno mai sponsor di questo canale non ho contatti insomma commerciali di alcun tipo penso che sia importante da specificare su un video di questo tipo sentitevi liberi di fare le vostre ricerche di vedere se vi serve una vpn o no se vi connettete a un wifi pubblico una volta ogni dieci anni sicuramente è una cosa meno interessante per voi se navigate solo siti sicuri è una cosa meno interessante per voi però per alcuni utenti può essere può essere un buon un buon servizio e appunto ce ne sono tante in circolazione la competizione è forte cercate anche di non farvi condizionare da articoli che trovate online recensioni che trovate online che sono chiaramente biased perché devono vendervi il loro link affiliato cercando delle risorse utili io in descrizione proverò a mettervi quelle risorse utili che ho trovato fino ad ora e soprattutto le risorse che giustificano i dati che ho messo a disposizione all'interno di questo video io vi ringrazio ancora per avermi seguito noi come al solito ci vediamo alla prossima vi ricordo di dare un'occhiata al blog della persona che più mi ha aiutato nella scrittura di questo video differentglasses.com e quando avete finito anche di andare su dist.io per darmi un feedback su questa beta versione del mio sito ci vediamo presto ciao 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 Grazie a tutti